E siamo al momento del nostro ospite, Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e docente di tecnica delle costruzioni all'Università Federico II di Napoli. Buonasera. Buonasera. Con lui parliamo innanzitutto dei terremoti, c'è stato uno sciarpe sismico anche nelle ultime ore nell'area flegrea, c'è stata paura, gente in strada, c'è una giornata nazionale il 30 settembre, una giornata di sensibilizzazione con 58 gazebo in tutta la campagna, che cosa sarà detto ai cittadini in questi gazebo? Sì, è la prima giornata nazionale della prevenzione sismica che come in sintesi si chiama, diamoci una scossa con 500 piazze nazionali, in un'iniziativa di ingegneri architetti di Narcassa con anche protezione civile, rete dei laboratori di ingegneria sismica, la Crui, insomma una compagine molto forte per sensibilizzare i cittadini ulteriormente al rischio sismico, ma è una giornata che vuole lanciare anche un mese intero di prevenzione, il mese di novembre per la prima volta in Italia, ma forse al mondo, ingegneri architetti esperti e preparati ad hoc, gratuitamente potranno visitare le abitazioni, una visita che durerà circa un'ora. Come si fa a prenotare questa visita? Tramite il sito che anche appare adesso sul teleschermo, dal 30 settembre in poi, è una visita gratuita, si avrà un esito, una scheda che è una prima indagine dei cittadini che spesso non sanno neanche se la propria abitazione è in cemento armato o in muratura, insomma una prima visita fatta da tecnici esperti che addirittura darà un semaforo verde-arancione-rosso che indica l'urgenza di fare ulteriori analisi eventualmente e quindi di dare delle prime informazioni. In caso di necessità di intervento c'è poi uno strumento che esiste da un anno e mezzo ma è ancora poco utilizzato dai cittadini. Esattamente, c'è il sisma bonus che è un'occasione veramente straordinaria di messa in sicurezza perché lo Stato dà fino all'80-85% a fondo perduto delle spese per migliorare sismicamente la propria abitazione, quindi davvero la percentuale che devono mettere i cittadini è molto bassa. Diciamo ci sono ancora difficoltà, piccole difficoltà tecnico-finanziarie, ma se l'opinione pubblica si mobilita, se questa giornata è successo sono convinto che il Governo faciliterà ulteriormente. Davvero un'occasione unica di messa in sicurezza per i cittadini che spesso pensano alle scuole, pensano agli ospedali, ma non pensano alla propria abitazione e dopo ci sta moltissimo ore di giorno. E pensano anche ai ponti, in questi giorni ci sono verifiche continue, anche chiusure, prima Benevento, proprio recentemente anche a capo del ponte sul Volturno, ecco, qual è la situazione dei ponti in Campania? La situazione innanzitutto è che come spesso accade da una tragedia poi nasce una cosa positiva, cioè finalmente si fa una verifica seria delle infrastrutture, quindi tutti i possessori di ponti, le concessionarie, stanno avviando un lavoro di conoscenza molto importante e certo ci sono dei ponti specie anni 60, anni 50 che vanno approfonditi, anche io mi sto interessando del ponte di Benevento e del ponte di Morandi del 55, opere d'epoca eccezionali, ma certo la vecchiaia incombe anche per le strutture, non solo per noi. E ringraziamo il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza. Grazie a breve. Proseguiamo dal...